Oggi l'argomento è, come appunto c'è scritto da qualche parte, il doppio e la follia. E io vorrei cominciare con la lettura di una serie di brani di Dostoevsky e poi una piccola premessa storica, perché anche quella mi serve, in relazione appunto al concetto del doppio e della follia. Primo pezzo, una lettera di Dostoevsky a un'amica. Il doppio è la più normale caratteristica degli uomini, non di tutti a dire il vero. Io l'ho avuta tutta la vita. È un grande tormento. Vuol dire avere una coscienza molto sviluppata, vuol dire sentire un dovere morale molto alto verso se stessi e verso l'umanità. In generale è una grande tortura. Ma c'è un modo per superarla. La fede. E di questo poi parleremo più avanti. Un brano di Il Sosia. Opera tra le primissime di Dostoevsky, ne parleremo nel breve quadro storico. Eccellenza, lui è un'altra persona e anch'io sono un'altra persona. Lui sta da sé e io pure sto da me. Davvero eccellenza, io me ne sto da solo, non centro con lui. Il Sosia. E passiamo ai fratelli Karamazov. Quanti misteri. Troppi enigmi sulla terra opprimono l'uomo. Sciogli se puoi e torna salvo alla riva. La bellezza. Io non posso sopportare che un uomo, magari di cuore nobilissimo e di mente elevata, cominci con l'ideale della Madonna e finisca con l'ideale di Sodoma. Ancor più terribile è quando uno ha già nel suo cuore l'ideale di Sodoma e tuttavia non rinnega neanche l'ideale della Madonna. Anzi, il suo cuore brucia per questo ideale e brucia davvero, sinceramente. No, l'animo umano è immenso, fin troppo. Io lo rimpicciolerei. Chi lo sa con precisione che cos'è? Lo sa il diavolo. Ecco chi lo sa. Quello che ha la mente sembra un'infamia, per il cuore invece è bellezza. Ma c'è forse bellezza nell'ideale di Sodoma? Credimi, proprio nell'ideale di Sodoma lo trova l'enorme maggioranza degli uomini. Lo conoscevi questo segreto o no? La cosa paurosa è che la bellezza non solo è terribile, ma è anche un mistero. E' qui che Satana lotta con Dio e il loro campo di battaglia è il cuore degli uomini. E l'ultimo brano è un brano che chi ha sentito lo spettacolo ieri sera, chi lo sentirà oggi o nei prossimi giorni, lo sentirà. Ed è Ivan che parla col diavolo. E qui vi leggo qualche frammento. Io vedo in te la canaglia che è uscita da me. Sono io stesso che parlo, non tu. Tu sei una mia allucinazione, sei un'incarnazione di me stesso, però solo di una parte di me, di una parte dei miei pensieri, di quelli più schifosi, più stupidi, insultando te, insulto me stesso. Tu sei me, però con un altro muso. Tu dici quello che io penso, però scegli i miei pensieri più brutti. No, tu non esisti, tu sei me. sei uno zero, sei una mia fantasia. Lui sono io, tutta la parte bassa, vile e spregevole di me. Basta. Allora, qui abbiamo percorso con questi brani praticamente l'opera di Dostoevsky dall'inizio alla fine. Breve intermezzo storico. Intanto Dostoevsky debutta in letteratura nel 1846 con Povera Gente, cose che qualcuno sa, enorme successo, tutti dicono ah, finalmente è nato il nuovo Gogol, ci siamo, abbiamo uno scrittore straordinario, eccetera, e in realtà il successo strepitoso di Povera Gente va in una direzione che Dostoevsky non ha nessuna intenzione di condividere, perché l'opera immediatamente successiva dello stesso anno è il Sosia che è una storia spaventosa di uno sdoppiamento di personalità, cioè un piccolo impiegato di Pietroburgo in una notte di tempesta incontra il proprio Sosia e tutto il racconto è il percorso di scontro, incontro, aggressione, difesa da questo Sosia che invade la vita del personaggio e lo porta lentamente alla follia. La chiusura del racconto è il protagonista Galiatkin che viene trascinato in manicomio perché il Sosia lo ha vinto, lo ha sconfitto, lo ha distrutto. 1846 l'ultimo brano che vi ho letto è del 1880 cioè i fratelli Karamazov di nuovo abbiamo un analogo percorso di uno dei personaggi Ivan appunto che per tutto il romanzo porta avanti una lucida analisi del mondo della morale con delle conclusioni estremamente dure forti e chiare ricordo il capitolo intitolato Bund cioè in russo è ribellione rivolta in cui appunto rifiuta la struttura malfatta di questo mondo in cui noi viviamo e via dicendo e che alla fine si accorge di non essere mai andato a fondo del proprio animo e che dentro di lui ci sono delle violenze delle aggressività delle spaventose dimensioni amorali che di colpo saltano fuori nell'incontro con il diavolo il diavolo è il suo sosia e qui come vedete a 35 anni di distanza noi abbiamo lo stesso percorso un personaggio che incontra l'altro da sé orrendo disgustoso perverso non è in grado di affrontarlo e cade nella follia Ivan come sapete alla fine viene trascinato via dal tribunale in preda a una febbre cerebrale tremenda attenzione perché in mezzo in questi 35 anni ci sono due episodi due momenti che che rendono questo percorso sicuramente molto più complesso molto più molto più difficile il primo è altra cosa che molti di voi sapete la condanna a morte che Dostoevsky subisce nel 1849 in seguito appunto all'arresto per aver partecipato alle riunioni del circolo Petraszewski inutile che racconti credo che più o meno tutti sappiate condanna a morte viene portato sul patibolo ed è pronto per l'esecuzione quando appunto lo zar manda un messo dicendo che la condanna è commutata in lavori forzati e qui abbiamo appunto i quattro anni passati da questo giovane scrittore nella fortezza di Omsk con un lavoro spaventoso fisico con meno 30 d'inverno con un caldo pazzesco d'estate eccetera ma soprattutto in mezzo ai criminali comuni perché una delle caratteristiche della perversione zarista è appunto quella che i politici quando venivano mandati ai lavori forzati non avevano una loro diciamo situazione particolare venivano messi con i criminali comuni e dunque Dostoyevski passa quattro anni a spalare a trascinare tronchi eccetera insieme a uxoricidi assassini e via dicendo e questa è una tappa fondamentale per la sua diciamo la sua carriera creativa perché appunto come scriverà senza per quattro anni non può scrivere una lettera non può leggere un libro se non la bibbia non ha nulla nessun nessuna possibilità di contatto con l'esterno deve vivere la vita appunto del forzato ricordo che c'è questo libro poco letto facciamo una prova memoria di una casa di morti ah bravo ecco beh una mano due tre quattro cinque beh no allora va insomma sono contento no voglio dire memoria di una casa di morti è la diciamo la cronaca addirittura a mese per mese di quello che è stata la vita di Dostoevsky ai lavori forzati e con delle descrizioni immagino che ve le ricordiate per esempio di che cosa facevano con i malati cioè venivano portati in catene nell'ospedale e nemmeno morti gli toglievano le catene cioè morivano incatenati e via dicendo le punizioni corporali eccetera va bene esperienza dunque questa del che va dal 49 al 63 è fondamentale l'altra tappa su cui bisogna assolutamente ragionare prima di arrivare a riprendere il discorso sul doppio è il 1864 cioè il le memorie dal sottosuolo anche qui arriviamo allora Dostoyevsky è tornato alla vita letteraria con fatica con enorme sforzo eccetera e ha e ha cominciato finalmente a scrivere romanzi fino al 1849 fino all'arresto è stato solo uno scrittore di racconti più o meno lunghi che tutti conoscete le notti bianche il signore di Procarcin eccetera dalla ripresa diciamo finita la condanna ai lavori forzati comincia con i romanzi non vuole appunto debuttare con un romanzo dedicato alla propria esperienza di forzato perché sarebbe come segnare il debutto letterario con un richiamo a questa condanna e e comincia con qualche racconto di strano tipo il villaggio di Stipancico il sonno dello zio eccetera ma poi appunto apre con umiliati offesi la linea dei romanzi ma nell'affrontare il discorso sul romanzo scrive memorie dal sottosuolo e di nuovo di nuovo questo personaggio che è un lungo monologo è il racconto del protagonista che parla di sé che cos'è il sottosuolo e qui le definizioni sono poi molto molto incerte il sottosuolo è noi tutti abbiamo un sottosuolo in una in un appunto fra l'altro di delitto e castigo che è poi il romanzo grande romanzo che segue a umiliati offesi c'è una nota che poi non utilizza nel romanzo e dice in tutti noi coesistono Caino e Abele c'è chi riesce a frenare Caino c'è chi non riesce e il brano che vi ho letto prima richiama anche qui allo stesso problema l'ideale di Sodoma e l'ideale della Madonna cioè l'abiezione e la grande ascesa spirituale nell'uomo convivono Satana lotta con Dio e il campo di battaglia è il cuore umano quindi questo è il problema questo è il sottosuolo che cos'è è appunto questa lotta furiosa tra un principio negativo e un principio invece positivo e qui appunto cominciamo a a parlare di di questo concetto fra l'altro vi segnalo che che in tutta questa questa storia Freud non c'è ancora non deve ancora nascere allora Dostoevsky nasce nel 21 e invece e Freud nasce mi sono segnato qui nel 56 e comincia a scrivere le prime cose nel 1895 ma l'interpretazione dei sogni per esempio è del 99 quindi Dostoevsky è già morto e sepolto e non dimentichiamo per esempio che ruolo fondamentale hanno i sogni in questi romanzi della 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 maturità se qualcuno ha letto da poco delitto e castigo si ricorda che 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 straordinaria forza evocativa hanno i sogni che sono i sogni di Raskolnikov da un lato per esempio la ripetizione del delitto in cui di nuovo colpisce la vecchia collascia e la vecchia si rivolta indietro e ride no cioè questo impossibilità di portare a termine il delitto ma i tre sogni incubi incredibili magnifici di Svidrigailov prima di suicidarsi bene questo per dire che siamo nel 1864 e Freud ha sei anni e quindi ecco e quindi c'è questa indagine che Dostoevsky si pone come base della propria della propria scrittura a partire dal dal 64 da quando ricomincia ed è appunto il sottosuolo il sottosuolo appunto che come come lo gestiamo ricordate appunto questa lettera in cui dice è un grande tormento avere un doppio no avere questo conflitto interno ma appunto in genere l'uomo diciamo normale il sottosuolo lo tiene tappato ben dentro di sé questo grazie per esempio all'educazione familiare che però non serve sempre per tenere il il caino a a bada ce lo dicono recenti cronache tremende no che ragazzini colascia come raskolnikov fanno fuori i genitori cioè ci sono dei sistemi per perché l'uomo normale controlli e tenga a bada il sottosuolo ripeto l'educazione familiare apre una parentesi fra l'altro per Dostoevsky la famiglia è un un elemento fondamentale per la per la la buona riuscita dell'uomo dell'essere umano e infatti le le per lo più le famiglie che sono al centro dei suoi romanzi sono famiglie disastrate famiglie in cui mancano figure fondamentali raskolnikov non ha un padre non parliamo poi appunto di dell'idiota i demoni sono il simbolo massimo del fallimento genitoriale andrebbe riletto riletto attentamente proprio per capire gli sbagli che fanno spesso i genitori troppo permissivi troppo propensi a ascoltare le mode gli slogan le parole le parole che ecco e che cosa succede escono i demoni cioè il frutto di genitori di questo genere porta a questo e poi ovviamente i Karamazov dove c'è questo questo padre depravato questo esempio assoluto di oscena degradazione morale da cui escono appunto tre più uno quattro figli tutti profondamente segnati da questa assenza di un modello familiare per Dostoevsky il fallimento di una società parte dal fallimento della famiglia la società si disgrega perché l'istituto familiare non è forte non è solido non regge non produce esseri coscienti e in qualche modo che sappiano organizzare la propria vita bene ora la possibilità di controllare il proprio sottosuolo è anche dato naturalmente da altre forme dalla scuola per esempio dalla società la società porta anche qui delle 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 migliora in qualche modo il rapporto di sé con la propria parte col proprio caino diciamo perché ti fa capire che in genere non si ruba non si uccide e la la convivenza tra gli esseri umani è legata appunto ad alcune ad alcune norme che che vanno vanno rispettate e che in generale l'uomo rispetta quindi la possibilità di tenere sotto controllo il il sottosuolo è anche dato da appunto da invece condizioni condizioni sociali ma ma poi appunto esiste la la ribellione cioè la l'uomo a un certo punto si ribella e lascia uscire questa sua parte questa sua parte negativa e appunto nella nella storia dastayevskiana partiamo dal dal sosia questo racconto del del 46 poi nel 47 dove un piccolo impiegato trasferisce su questo personaggio che gli appare in una notte di tempesta e che poi rincorre incontra sembra di di entrare in rapporto all'amicizia poi è in conflitto e che cosa gli trasmette gli trasmette esattamente tutto quella quel spaventoso magma di insoddisfazione di frustrazioni di ambizioni mancate che sono dentro che sono state chiuse dalla condizione sociale in cui viveva e che a un certo punto non riescono più a stare dentro e escono fuori però appunto nel primo racconto nel nel sosia come vi ho letto il breve frammento eccellenza io io sono un altro io non sono quello lì non c'è 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 il tentativo di vedere questa parte negativa come fuori da sé come altro da sé come qualcosa con cui non ci si vuole identificare con cui si si vuole lottare ma in realtà è proprio l'incapacità dell'uomo di lottare contro la propria parte negativa che poi lo porta alla rovina e appunto la conclusione del sosia è come ho detto prima il manicomio cioè l'uomo non è più in grado di controllare e controllarsi e si scatenano in lui delle pulsioni che ormai lo portano a uscire dalla quella convivenza che aveva fino a un certo punto tenuto sotto controllo il sottosuolo gli scatenano delle dei comportamenti che appunto la società non accetta e quindi manicomio manicomio perché è il luogo dove chi trasgredisce le norme di convivenza viene viene inviato è là che l'uomo che non controlla più il proprio caino viene mandato viene mandato ecco ora il problema del primo racconto è ancora diciamo embrionale cioè il sosia è giocato come personaggio fuori da sé c'è un Goliathkin junior e un Goliathkin senior e sono due personaggi che hanno dei loro comportamenti all'interno del racconto e appunto il Goliathkin junior cioè quello che prende il posto dell'incapace Goliathkin senior cioè colui che cede è appunto sicuro di sé ha successo nel lavoro prende il posto dell'altro è amato dai è servile è amato dai superiori è esattamente quello che Goliathkin senior avrebbe voluto e non è stato capace di fare nella vita e questo appunto gli scatena una incapacità di ritornare a essere uno io sono io e lui è altro il brano che vi ho letto cioè la scissione la decomposizione la 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 personalità non riesce più a tenersi insieme e perciò viene viene completamente distrutta e di conseguenza allontanata dal consesso degli altri e viene il manicomio ecco in Ivan e 35 anni dopo il discorso è più complesso Ivan e questo forse sicuramente qualcuno di voi ha visto qualche grande inquisitore ha sentito qualche lettura del appunto del capitolo la rivolta il bunt Ivan è un razionale lucido chiara ha di sé un'idea molto molto precisa appunto nel capitolo bunt c'è una esegesi chiara della cattiva creazione del Dio Dio ha creato un mondo dove i bambini piccoli innocenti che non hanno ancora compiuto peccato possono essere orrendamente torturati dilaniati uccisi e questo mondo Ivan non lo accetta e dice io restituisco il biglietto d'ingresso a questo Dio che permette un mondo così orrendo dove l'innocente può essere violentato in maniera così atroce e come qualcuno ricorda nel capitolo bunt ci sono degli esempi spaventosi la bambina picchiata mandata fuori al freddo e via dicendo il bambino divorato dai cani perché aveva colpito un cane del padrone e via dicendo la conseguenza però attenzione di questa teoria è dunque io il tuo mondo così come me l'hai creato non mi va non lo voglio e quindi sono a questo punto libero di fare quello che voglio questa frase il famoso tutto è permesso risuona per tutto il romanzo se voi ricordate addirittura in apertura c'è l'incontro di Ivan con Zassima il padre spirituale di Alyosha e anche qui affiora per la prima volta il concetto del se non c'è un punto di riferimento etico preciso l'uomo è libero di fare le proprie scelte di fare quello che ritiene meglio e tutto dunque è permesso questa frase attenzione viene ascoltata dal famoso quarto fratello figlio della della storpia e della della idiota del villaggio che con cui il padre il padre Karamazov per sfida con gli amici ha avuto con cui ha avuto un rapporto e da cui è nato questo questo figlio che è Smerdyakov Smerdyakov ascolta questa frase e appunto interpreta la volontà di tutti i fratelli di eliminare questo padre volgare violento avido avaro possessivo stupratore eccetera e e appunto approfitta del tutto è permesso per ucciderlo e dunque Manni voi è andato via no c'è nello spettacolo non so se si parli di Svidrigailov scusate di Smerdyakov ma l'incontro col diavolo è fondamentalmente legato ai tre incontri che Ivan dopo il delitto fa con Smerdyakov Smerdyakov è l'esecutore materiale del parricidio e nessuno lo ha lo ha lo ha lo ha scoperto perché abilmente aveva un alibi ferreo cioè aveva avuto un attacco epilettico proprio la notte in cui il padre viene ucciso ma questo attacco epilettico sappiamo tutti è simulato e in realtà l'assassino il parricida è lui come sapete anche Smerdyakov convince Ivan ad allontanarsi il giorno appunto prima del delitto ad andare a Mosca a partire a non essere presenti a non essere in nessun modo coinvolto nella faccenda e altra cosa che tutti sapete il colpevole risulterà poi essere Dmitri il fratello appunto aggressivo che ha sempre odiato il padre eccetera ma alla fine del romanzo noi abbiamo tre incontri con di Smerdyakov con Ivan e in questi incontri lentamente affiora la responsabilità di Ivan nel delitto cioè è vero che Smerdyakov ha ucciso il padre ma chi ha autorizzato questo delitto è stato Ivan e nell'ultimo colloquio nel colloquio definitivo in cui Smerdyakov fa dà la prova di Ivan di essere lui l'assassino cioè estrae da una calza i 3000 rubli che ha rubato al padre alla fine di questo colloquio Smerdyakov dice io l'ho ucciso ma tu mi hai aiutato tu sei l'assassino io sono l'esecutore tu hai la responsabilità di questo delitto e qui appunto comincia il delirio di Ivan e cioè di nuovo il diciamo che il passo finale per arrivare al doppio di 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 Ivan e cioè dei fratelli Caramazo bisogna passare attraverso questo questo elemento fondamentale cioè una delle delle peggiori colpe del sottosuolo è il non assumersi la responsabilità delle proprie azioni questo è fondamentale e diciamo che mentre nel sosia del 46 questo è ancora appena accennato esplode nel nei fratelli Caramazo del 80 cioè Ivan si rende conto solo dopo il terzo colloquio con Smerdiakov che in realtà è l'assassino cioè colpa è sua perché se Smerdiakov non avesse ascoltato il tutto e permesso non avrebbe probabilmente col Calamai ucciso il padre e qui appunto abbiamo il punto d'arrivo cioè Ivan crolla interiormente quando si rende conto che non è stato in grado di assumersi la responsabilità delle proprie parole dei propri discorsi attenzione perché il capitolo del diavolo che si è interterrato proprio il delirio di Ivan il diavolo è preceduto da un altro atto mancato e cioè uscendo dall'incontro con Smerdiakov l'ultimo quando Smerdiakov gli dice tu sei l'assassino la prima cosa che Ivan vorrebbe fare è andare dal giudice istruttore e dirgli le cose come stanno cioè la prova del delitto c'è andatela a cercare da Smerdiakov non lo fa e come tutti sapete nella stessa notte Smerdiakov si impicca e cioè toglie ad Ivan la possibilità di incolpare lui e quindi tutta la colpa del delitto resta addosso ad Ivan la chiusura del discorso col diavolo è proprio a Liosha che entra e dice Smerdiakov si è impiccato questa notte e dunque tutta la responsabilità è di di Ivan e questa responsabilità che è evidente ormai dal terzo colloquio con Smerdiakov lo disintegra di nuovo lo distrugge il suo doppio arriva gli si para di fronte è il diavolo avete sentito prima la lettura cioè tu sei tu sei me cioè tu mi stai dicendo le cose che io penso ma sono le cose più orrende le più brutte le più mostruose sì esatto è lì di fronte il il caino il il negativo il che Ivan non è riuscito a elaborare nel corso del del romanzo che ha sempre che ha sempre ritenuto non essere non essere problema no quello che diceva e invece poi di colpo lo diventa la parola diventa il mezzo per assassinare il padre la parola di Ivan permette a a Smerdyakov di di compiere il parricidio che appunto c'è anche qui una vecchia teoria che tutti i fratelli in qualche modo desiderano la fine di questo padre che è un loro specchio impossibile da accettare in tutta la sua la sua meschinità il famoso capitolo del cognac dove dove c'è questa questo dialogo sull'esistenza di Dio e l'immortalità qualcuno se lo ricorda no sì che sono tutti riuniti fratelli no c'è anche Smerdyakov fra l'altro e il vecchio padre dice chiede appunto a Ivan no dice ma Ivan dimmi ma sto Dio esiste no esiste e ovviamente Ivan risponde no e poi gli dice ma e l'immortalità dopo che cosa succede dopo niente non c'è niente e qui appunto c'è il 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 punto no il padre è questa questa figura di una totale negatività e da cui esce esce invece la risposta di di Aljosha no Aljosha dice sì l'immortalità esiste e poi di lì poi ci trasferiamo direttamente nel nella nel romanzo al grande inquisitore dove di nuovo di nuovo Dostoevsky ci racconta una forma di 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 ateismo assoluto no il grande inquisitore dice apertamente Cristo per piacere fuori di qui non tornare noi uomini della chiesa ci siamo organizzati su quello che tu hai detto duemila anni fa mille cinquecento anni fa e non abbiamo intenzione di rivedere le nostre posizioni abbiamo deciso che certe cose andavano in un certo modo che il peccato era questo e questo non era peccato e dunque adesso non tornare più no e appunto alla fine addirittura lui dice io sto con satana cioè io sono dalla parte di satana e poi appunto abbiamo la chiusura del 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 grande inquisitore con questa straordinaria ripetizione del bacio no voi sapete che il il grande inquisitore dice al Cristo catturato via vattene e il Cristo bacia uscendo il grande inquisitore e alla fine del colloquio è un colloquio è la storia che sta raccontando Ivana da Gliosha a Gliosha bacia Ivana con lo stesso bacio come dire di di assoluzione di una di una storia tremenda che porta al negativo ma appunto il bacio ed è la frase finale di questa di questa lettera di Dostoevsky no che dice il doppio è è una il doppio è una cosa è una grande tortura ma c'è un modo per superarlo appunto la fede in Cristo e i suoi insegnamenti e dunque a questo punto tornià dov'è Irene ah è ora di finire e poi vogliamo delle domande allora cioè il punto finale è questo il doppio sì il doppio porta alla alla disintegrazione della personalità umana e dunque alla scissione totale alla follia ma ma c'è una possibilità è appunto quella di Aliosha c'è è una possibilità che è quella diciamo così di Sonia nel nel in delitto e castigo Sonia ricordo appunto che è anche una prostituta che che fa la professione con con fior di di cartellino ed è ed è il personaggio spiritualmente più forte più grande più illuminato di tutto il romanzo e quindi anche qui il la possibilità di una uscita dalla da questa situazione l'abbiamo con una con una fede di nuovo e qui ci si può domandare ma stiamo qui fino a mezzanotte e cioè allora allora la fede in che cosa no? In che cosa? In questo principio forte spirituale che ti fa vivere anche nelle condizioni più spaventose perché c'è un c'è un un al di là c'è un un padre che ti accoglie c'è un una una parte positiva che resta e ripeto Dostoevsky come Tastoy sappiamo benissimo altrettanto eccetera rifiuta ogni 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 religione confessionale cioè il grande inquisitore è uno dei più grandiosi attacchi al cattolicismo che esista ma questo non vuol dire che l'ortodossia sia molto meglio e la scomunica di Tastoy alla fine della sua vita lo dimostra cioè quanto in realtà le chiese non la chiesa le chiese siano delle strutture che hanno delle precise regole se tu esci e dici Cristo ha detto che la Maddalena può essere può essere perdonata e dunque Sonia può essere il personaggio più forte del romanzo questo non va bene e questo appunto è uno dei grandi problemi ma Irene non ne parliamo facciamo qualche domanda c'è qualche cosa che che non è chiaro qualcosa che ah io io sì certo devo staccarlo ah gira con questo adesso vediamo dove va bene intanto alzate le mani dovete alzare le mani no lo stacca dai no no c'è 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 possibilità ma che no allora sono le prime tre file no in realtà no disponiamo ah vedi è una sfida fino là mi incuriosiva sapere la figura di Stravogin il protagonista dei demoni come si inserisse in questo discorso perché la rogge mi tira la rogge mi tira proprio nell'essere stile nella più completa realizzazione di questo stesso discorso che fa che fa Ivan direi che se lei conosce anche il capitolo famoso dei demoni che è stato non è stato pubblicato cioè la confessione a Tichon lei si si rende conto appunto che di nuovo allora una delle cose che a cui ho appena accennato è questo spesso il chi non fa i conti con il proprio sottosuolo qualche volta impazzisce e qualche volta si suicida cioè quando tu non non riesci o appunto accettandolo assumendoti la responsabilità famosa che Ivan non si assume e Savaroghin ancora meno cioè del tuo conflitto interiore tra il tuo Caino e il tuo Abele quando tu non riesci a fare questo hai appunto la la possibilità della dello scoppio della mente che è Galiatkin ma anche Ivan oppure oppure della del suicidio cioè che è una delle delle cose più negative che Dostoevsky porta nei suoi romanzi personaggi che si suicidano sono personaggi sconfitti sono personaggi perdenti sono personaggi che non danno che non danno all'evoluzione del romanzo in genere nulla Svidrigailov insegna il primo il suicidio di Svidrigailov di quest'uomo morbido elegante eccetera che però è un pedofilo che va con la che ha la moglie la ragazza della ragazzina tredicenne eccetera e che non si non si vuol render conto di questo e dunque e dunque l'ultima notte ha questi tre incubi in cui gli si affolla la mente di di bimbe annegate di bimbe che si trasformano in prostitute e via dicendo cioè e e Stavrogin ancora peggio perché Stavrogin è ideo è l'ideologo no sia di dei due opposti all'interno dei demoni e di Verkaviansky che è il vero demonio di tutti è colui che guida queste menti verso tre esiti totalmente diversi no Verkaviansky la perversione Shatov eccetera e e si trattiene ed è il famoso il famoso tiepido no dell'apocalisse cioè poiché tu sei tiepido io ti vomito dalla 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 bocca non sei né caldo né freddo sei tiepido e quindi ti vomito dalla bocca e Stavrogin è così e siccome è incapace di assumersi le responsabilità dei comportamenti con gli altri personaggi cioè Verkaviansky Shatov eccetera a questo punto si impicca si impicca lasciando però quella famosa lettera in cui dice appunto io non non ce la faccio io non mi accorgo che sono un tiepido e quindi non non riesco non ce la faccio e mi uccido però ripeto il il suicidio in questo senso è di nuovo una non assunzione di responsabilità questo è il grande tema di tutti questi romanzi è questo cioè tu sei uomo se ti assumi la responsabilità che è quel magnifico discorso di di parfiri alla fine di delitto castigo quando quando dice a Raskolnikov Raskolnikov come tutti sanno è ha fatto il delitto perfetto cioè nessuno può incolpare Raskolnikov di aver ucciso la l'usuraia e la sorella perché non ci sono prove e parfiri il giudice istruttore l'ultimo nell'ultimo colloquio gli dice Raskolnikov vai io non posso arrestarti non posso perché non ho prove però tu l'hai fatto lo so e dunque se tu sei vuoi essere uomo se vuoi crescere devi confessare devi ammettere questo questa colpa perché non esci se no puoi benissimo andare via scappare ma ti tornerà dietro questa questa cosa che hai fatto la coscienza esiste Caino lavora dentro di te non vai fuggi e fra l'altro se lei ricorda l'ha letto sì delitto e castigo allora si ricorda che parfiere gli dice e se ti venisse in mente di sparare no di partire non dice spararsi un colpo perché appunto non è ma di partire per l'America per sempre lascia un biglietto dicendo che sei stato tu no cioè anche l'ipotesi del suicidio anche nell'ipotesi del suicidio in delitto e castigo esiste ma appunto è considerata una via mediocre una via una via vile una via non non da 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 essere umano e Stavrogin percorre esattamente quella strada cioè non si assume in nessuno dei casi la responsabilità di quello che fa e di quello che dice dice perché appunto sappiamo che di nuovo Stavrogin è un uomo che usa la parola e quindi non lo fa e si si impicca io volevo fare una domanda in generale sto assistendo a una specie di dicotomia tra la superficialità dilagante l'ignoranza eccetera beh lei ha già accennato alla storia della delle medie scolastiche della voglia di buttarsi sotto il tram citando un altro autore russo sempre comunque e dall'altra parte invece una certa parte della stampa o dell'opinione pubblica attribuisce a tutti i lavori Dostoevsky per esempio nel cliente che è l'ultimo film di Faradì c'è Dostoevsky in tutte le opere viene citato c'è c'è dappertutto allora come la mettiamo c'è o non c'è cioè è vero che influenza tutta la vita non solo la letteratura l'arte il cinema il teatro ma anche la vita di noi tutti che la continua a influenzare oppure stiamo esagerando oppure non lo so questa è una domanda che mi che mi mi perseguito un po' perché io penso che che sì che ci influenzi però non vorrei esagerare io a questo punto mi consono abbastanza le mani alzate prima cioè la gente ancora lo legge Dostoevsky beh io in università purtroppo non posso più dare fratelli Caramazo perché implica troppi crediti come lei sa il mercato dei crediti cioè come il supermercato dice compro questo no eh i crediti che i fratelli Caramazo mettono in un esame è troppo e quindi io devo dare il sosia notti bianche magari l'uomo ridicolo oppure il boboc ma insomma quindi Dostoevsky spesso è citato ma non sempre molto letto e devo dire effettivamente ormai siamo in una società in cui i tempi di lettura si sono molto molto ristretti quindi anche i fratelli Caramazo che sono un romanzo molto impegnativo poi con queste parti relative a Zassima cioè la parte spirituale in cui finalmente Dostoevsky ha messo nero su bianco quello che a cui crede no questa famosa definizione magnifica che dà Zassima dell'inferno l'inferno che cos'è l'inferno dice nel suo nelle sue memorie che sono un capitolo all'interno dice l'assenza di amore la gente non sa amare e quello è il suo inferno che è magnifico cioè di nuovo non è non è le fiamme le cose il diavoletto che ti è che non sai amare che non sai non sai dare di donare te a un altro e questo è quindi voglio dire secondo me Dostoevsky oggi beh io invece trovo che delitto e castigo per esempio per un ragazzino sarebbe una grande lettura io credo io dicevo appunto ai miei studenti che quando dopo la lettura di delitto e castigo uno a buttare giù gli sassi allora si usava buttare gli sassi d'autostrada e poi morivano ma non ti pescavano mai perché naturalmente era buttavi giù cadeva è un po' più difficile perché ti accorgi che buttare giù un sassi d'autostrada vuol dire qualcosa e ci devi pensare ecco io trovo che appunto Dostoevsky oggi sarebbe da leggere e dar da leggere molto anche agli adolescenti per esempio delitto e castigo perché appunto le ripeto è il percorso questo uccide e la fa franca eppure no è come quelli che buttano un sasso e passa una macchina e uccide qualcuno ma la fa franca ma no appunto lì ti spiega perché no e secondo me questo sarebbe molto importante che la gente lo leggesse capisse io devo dire una volta ho avuto un'esperienza abbastanza allucinata sono andato a San Vittore appunto a parlare di delitto e castigo e quando ho fatto appunto questo esempio ma in fondo Raskolnikov è un signore che nessuno avrebbe potuto mettere dentro le facce dei signori presenti non erano convinte che bisognasse poi confessare non so e beh è quello che appunto gli dice 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 Parfiri gli dice guarda lasciami scritto perché in galera c'è l'altro in galera c'è l'altro e anche quello anche quello è un bel problema cioè appunto questo insistere che fa Dastajewski continuamente sulla responsabilità dei tuoi atti fino in fondo sappi essere responsabile dei tuoi atti è un problema che guardi che le nuove generazioni sì purtroppo non so quanto buonasera professore so che è tardi cercherò di essere il più veloce possibile prima di tutto grazie perché è stato bellissimo mi piace tantissimo il modo in cui lei ha mostrato la bipolarità umana e la capacità secondo me di Dostoyevski proprio di come dire dipingere un uomo tra due abissi quello che io le voglio chiedere è riguardo al ruolo dell'intellettuale oggi in in confronto al modo in cui lo è stato Dostoyevski ovvero io penso che l'intellettuale oggi essenzialmente compie un atto di formazione nel senso che come lei ha detto la maggior parte degli uomini tengono a bada al sottosuolo guardandolo come il male schifandolo definendolo come lo si vuole definire come immorale illegale superficialità e qualsiasi tipo qualsiasi altro tipo di definizione del male per tenerlo lontano da sé io penso che secondo me però la grandezza di Dostoyevski sta nel fatto che lui ha saputo guardare in faccia il male dentro di sé e dentro la società e l'ha saputo anche amare secondo me perché c'è qualcosa non so come dirlo di del Cristo nel suo conoscere il male cioè stare quattro anni con gli uxoricidi cioè Dostoyevski non penso che lui avrebbe visto come certi intellettuali oggi nel senso certi assassini non so come dirlo cioè l'intellettuale oggi deve essere un Dostoyevski deve essere un formatore delle persone o deve metterli di fronte al proprio male perché secondo me cioè lei ha detto è la responsabilità a farlo reggere ai ragazzini però secondo me come dire la cosa che ci spaventa oggi se vogliamo usiamo il peccatore che non conosce il proprio peccato perché non è responsabile del proprio peccato ma perché non c'è un io che si domanda a riguardo non è solo per il fatto che queste non so queste persone hanno perso la cognizione anche perché secondo me sono state cresciute a non guardare in faccia il proprio male cioè però questo è nella formazione stessa della nostra società cioè se io considero il male solo esterno a me io non prenderò mai responsabilità di quello che ho fatto perché non lo saprò affrontare sarà a livello io poi faccio studio psicologia quindi sarà sempre a livello inconscio negherò fino all'ultimo quindi secondo me Dostoevsky non è solo quello che ci dice il bello il giusto il responsabile Dio quello che vogliamo cioè la grandezza di Dostoevsky è che è un intellettuale che tocca il fondo è un intellettuale che riesce a intellettualizzare un uxoricidea un pedofilo e tutto questo e non lo fa criticandolo ma capendolo comprendendolo perché entra nella loro pelle quindi qual è il ruolo dell'intellettuale aprire l'abisso o come dire formare tenere via il male non farlo guardare criticare dire questi sono superficie noi siamo in alto cioè qual è il ruolo dell'intellettuale entrerà nella pelle delle persone che deve formare o come dire porre i confini perché secondo me spesso i confini uccidano una cosa da dire subito è che appunto tutti i romanzieri della seconda metà dell'ottocento Dostoevsky ma non solo Dostoevsky anche Turgenev per esempio secondo me da rivalutare Matarstoi eccetera hanno sempre parlato dei problemi che gli stavano di fronte cioè Dostoevsky parte per delitto e castigo da un episodio letto sul giornale i demoni altro altro discorso il terrorismo leggere i demoni oggi e soprattutto leggere negli anni è impressionante come Dostoevsky si pone di fronte a un problema che era suo dei suoi contemporanei e lo lo affronta appunto smascherandolo in tutti i sensi cioè l'omicidio di Raskolnikov è seguito lei sicuramente l'aveva letto seguito in tutte le sue le sue fasi la preparazione il sogno prima del delitto quindi oddio non lo faccio poi lo faccio e via dicendo cioè Dostoevsky si pone in una in una situazione di totale immersione nel nel male no? sì ma va dentro a capire chi è l'assassino che cosa lo porta a questo no? e che cosa poi succede dentro di lui dopo aver compiuto e in questo senso secondo me noi oggi non abbiamo una letteratura che ci porta a questa a questa coscienza così come in generale siamo di fronte a una società che è talmente fra virgolette liquida per usare un termine noto ma che che quindi ci mette ogni giorno di fronte a delle situazioni e di corruzione di assenza totale regolare di responsabilità del fare questo questo noi lo vediamo perché leggiamo i giornali e uno si domanda ma porca miseria ma 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 dappertutto succede questo e eppure qualcuno che ne legga dentro il percorso dentro secondo me noi non lo abbiamo non lo abbiamo perché a me non basta Gomorra per capire che Gomorra è importante perché racconta che cosa succede ma 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 poi ma poi ma poi e e quindi e quindi io direi che che ancora ancora sono importanti proprio questi questi percorsi che ci fa fare Dostoevsky all'interno della psiche perché sono percorsi adattabili a tutte le situazioni anche di oggi voglio dire è una cosa appunto le dico assolutamente assolutamente contemporanea lascia di Ravenna e Raskolnikov possono essere dei percorsi percorsi studiabili nel modo come l'ha studiato Dostoevsky e quindi secondo me è fondamentale è importantissimo oggi che qualcuno vada dentro a queste storie perché ripeto Dostoevsky ha preso un episodio come quello non di Ravenna ma insomma così ecco da un giornale lo stesso succede voglio dire tra storie non è mica molto diverso la la storia di 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 Anna Karenina se cioè è il percorso appunto della possessività della cioè è uno straordinario itinerario all'interno della passione amorosa diciamo così che 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 ha che ha a tutte le età secondo me una una straordinaria attualità là per la diciottenne per la trentenne per la sessantenne cioè come come va dentro alla alla storia no di di una di una di una passione che poi non è passione di un possesso eccetera è la stessa cosa cioè bisogna andare dentro nelle cose dentro e e capire e provare a spiegare perché ripeto Dostoevsky ha fatto un percorso all'interno all'interno di un di un di un omicida che era scolnico ma ma anche all'interno di una di un intellettuale come Ivan che che parla e non si rende conto che cosa vuol dire parlare anche questo oggi sarebbe tanto importante che qualcuno raccontasse come parlare sia micidiale qualche volta parlare male eppure non secondo me non c'è oggi qualcuno che lo fa